Chi strisce il beige e poi va via per fare shopping o altro deve andare a casa. Via Libera da Palazzo Chigi e licenziamenti per i furbetti del cartellino. Dopo la battura di arresto dovuta alla sedenza della consulta, il Consiglio dei Ministri ha approvato i nuovi decreti del Madia Abis. Viene fatto ordine sui casi di licenziamento dallo scarso rendimento alla cronica condotta illecita. I tempi per arrivare a decidere sulla sanzione si riducono da 4 a 3 mesi e a un mese per tutti i casi di flagranza. Un'inchiesta sui furbetti del cartellino si è avverta anche per il Comune di Sulmona. In 25 al momento ci sono visti a recapitare la notifica della Corte dei Conti per danno erariale. Gli atti sono stati emessi dalla Procura dell'Organismo con funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo e di vigilanza sulle entrate e spese pubbliche all'interno del bilancio dello Stato. Viaggia invece su un altro binario l'inchiesta penale aperta dalla Procura della Repubblica di Sulmona dopo le indagini condotte della Guardia di Finanza. Sarebbero 46 su 102 gli impiegati comunali coinvolti nell'inchiesta sull'assenteismo a Palazzo San Francesco, quasi la metà della totalità della pianta organica. Nelle immagini delle telecamere nascoste dalle fiamme gialle, gli impiegati vengono ripresi al bar a fare shopping o la spesa durante l'orario di ufficio, mentre altri sono stati sorpresi a timbrare più cartellini per volta.